La love story tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò prosegue anche adesso che si sono spenti i riflettori sul grande fratello Vip. I due giovani ragazzi hanno dimostrato di essere follemente presi l'uno dall'altro, complici e innamorati. Le testimonianze arrivano anche sui social, dove i due continuano ad essere molto attivi e condividono con i tantissimi fan che li seguono e li supportano, i diversi momenti della loro vita quotidiana assieme. Proprio poco fa Rosalinda Cannavò, attraverso le sue stories Instagram, ha annunciato che domani partirà per tornare dalla sua famiglia. Ragazzi, questa è l'ultima storia di oggi, spero che l'allenamento vi sia piaciuto, io domani parto, quindi adesso mi dedico a lui, al mio zenghino. E niente, sei contento che vado via? No, sono tristissimo, c'è la Champions domani ma poi sono triste. Ma come? Vabbè, solo domani sera, però sono triste però. Sicuro? Eh sì. Ma tanto torno...